facciaci un attimo una cosa ma che ho preso? ah bene apri questo va fatto un po' troppi sta minta vabbè qua tipo ci camminiamo perfetto questi invece li mettiamo così anche se stanno davanti caso questi qua crescono meglio sulla sabbia oh perfetto abbiamo ucciso stava dando un po' troppo fastidio che rullava perfetto quindi cresce in pace speriamo non ci vanno gli animali sopra perchè se no mi incavolo tantissimo lo siamo qui prendiamoci delle torce perfetto prima torcia la mettiamo qui che per il momento non ce n'è bisogno la seconda la mettiamo qui e adesso possiamo tornare a lavorare dobbiamo lavorare solo scavando adesso dobbiamo ingrandire casa anche se non ce n'è bisogno più di tanto adesso dovremmo andare più a la ricerca di minerali ma non ne ho voglia adesso ci andremo ci andremo un'altra volta vabbè anche se per il momento vabbè non ce ne troviamo molto ce ne dobbiamo trovare vabbè io direi di posare questo questo tutto ciò che teniamo e andare alla ricerca di qualche caverna una bella una bella caverna mi serve uuuu caverna dove sei? ma che è una caverna questa? caverna uuuu uuuu bellino 8 non ce ne ho troppato anche la spada bastardo questo mi ricordo che albero Di sicuro non si può abbattere Che abbiamo ricevuto? Oh peccato Abbiamo messo pure male Ok Abbiamo trovato qualche posto interessante Cominciamo a prendere questo carbone Il carbone che sta alla base di minecraft Per la sopravvivenza Per le distruzioni di massa invece il ferro Carbone sempre in quantità esagerata Non si limitano mai Che non fanno i diamanti Che si trovano come il carbone Sarebbe una buona innovazione per il gioco Perfetto Molto utile trovare questo ferro Siamo a inizio gioco quindi E' molto importante Abbiamo una torcia qui Andiamo a vedere quest'altro ferro Beh di sicuro I minerali se ne trovano molto di più Se ricordi mi pensiamo a una semplice survival Se ne vuole per trovarlo Questo Cosa essere? Copper Ma il copper Già l'ho trovato Però era diverso Se non mi ricordo male Infatti me lo ricordavo così Perfetto Ecco Tipo questo Questo è sempre copper Allora Copper Ora smelting Valore 4 2 4 2 611 1 1 Vabbè E' diverso Non so il perchè Ma spero sia la stessa cosa Perché io La differenza solo oltre ai colori Non l'avete Quello dovrebbe essere Thin Quello che ho trovato finora Oh no Thin Che ne servirà tanto Per fare tipo le batterie E qua Già abbiamo finito Vabbè Non c'è niente Questa ce la prendiamo E ce ne andiamo Abbiamo della cosa qui Questo per non cadere Bello Spostiamoci Qua non c'è niente più Perfetto Possiamo cambiare Spada in mano Non si può mai sapere Anche se è quasi rotta Perfetto Copper Vediamo questi Che servono sempre Il copper E' uno dei materiali Più importanti Per la costruzione Di macchinari Beh Praticamente Ritorniamo Alla vecchia serie Ho sentito qualcosa Forse mi ha impressione No Altra che impressione Se senti per come Vabbè Facciamo finta Di non averlo sentito Come è ben trovare Tanti minerali Ale ale Minerali Tanti tanti Mi stiamo trovando Ci manca la spada Il rifugio A quanto sto 120 metri Casa Ah ecco Dove erano Beh diciamo Che abbiamo Finitate No Che è finita Di esplorare Se ne vola Lo siamo senza cibo Siamo Qui In caverna Perfetto Questa è da esplorare Ecco Un nuovo tipo Di lupo mannaro Oh Fantasma Adesso è molto Pericoloso Andarcene Io ho la spada Rotta Naturalmente Il bruchino Scava tutto Non fermiamoci Davanti Niente Per fortuna Sta lì giù Scavando Marmo Noi Mini Qui È già Sudenza Cibo Come volete Fa pure morire Qua Perfetto Voglio anche Della Cosa Lì Lì L'ultimo cibo Rimasto Perfetto Lì Mamma mia Come è stato Lo tengo in presenza Cibo Senza cibo Noi stiamo Senza cibo Senza cibo Ma come sopravviviamo Ah si Dove sta la crafting Perfetto Sopravvissuti All'ultimo istante Serve molto più Cibo Così sicuro E' ancora notte Pura Normale Non mi ha fatto dormire Perché stavo Umorento Ma questo si può mangiare Questo è velenoso Sembra mai chiudi niente Oltre sembra mai chiudi niente Siamo morando Sì 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 Prendiamo la zappa 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 Dobbiamo trovata mangiata lo mettiamo qui, lo mettiamo qui, perfetto possiamo uscire possiamo ancora crescere un po' so, spero di avere delle cose, come si chiama? dei, mi si chiama, mamma mia, mi viene in mente niente oggi delle ossa spero di averne un pa' un po' imparare se finora di schede non ne ho uccisi non ne ho proprio incontrate vabbè abbiamo fatto un altro po' allunghiamo questo questa farmia dobbiamo un po' allungarla facciamo così questo albero che si deve abbattere proprio da poco fastidio perfetto facciamo così altri 4 facciamo così facciamo così perfetto possono crescere subito io non c'ho neanche il cibo non cotto vediamo che si può mangiare, vabbè questo si può mangiare di sicuro ho paura di morire però qua non fa correre quando lo fa questo si può mangiare di sicuro cos'altro ci può mangiare cos'altro ci può mangiare sto cosiddetto a mangiarmi queste cose per evitare di morire beh penso finita l'ho già fatto un po' troppo questo lo posiamo vediamo vediamo se abbiamo le ossa no solo zaro si vediamo che rompo soltanto sti cosi crescete, crescete vai dai allunghiamoci qua non lo attacchiamo che immagino una mela perfetto ok adesso ci riprenderemo un po' di video dai vediamo un po' di video vediamo 3.000 vi vediamo che vediamo 3.000 Vediamo cosa uscirà da quegli alberi. Beh, stiamo aumentando un po' di saluta. Comunque stiamo sempre senza cibo. Dobbiamo andare a cercare di maiali, cose del genere. Speriamo la nostra fortuna di trovarli perché... I crepati non ne voglio. Vediamo quello cibo non ne dà. Quello dall'armatura... L'armatura, va bello per fare l'armatura. La pelle, l'armatura di furetto. Penso che me la rifarò perché mi piaceva molto l'armatura di furetto. Questa è una zona più o meno per i maiali. O no? C'è anche la famosa torre, tutto qua, torre. Il bimbo gigante. Cibo che... Cioè, potremo prendere però non ci conviene. Ci servirà un attrezzo... Che faremo più avanti. Potremo uccidere il nostro amicato. Oh my god, sono... Oh my god, sono... Oh my god, sono... Oh my god, sono... Bob so... Will, là, come si chiama? Come lo chiamano lì 4316? C'è anche il canale di YouTube, ragazzi. Iscrivetevi. Intanto non abbiamo trovato ancora niente. Siamo qua in giungla... Con un piccolo lagga, come minimo. I cartarughini danno la zuppa, danno. Infatti non mi ha dato niente. Che poi io sono abbastanza fortunato da ricevere qualcosa. Questo qua dobbiamo segnarcelo. Magia. Che poi visiteremo. Uno di questi giorni, non subito. Dobbiamo prima... Cercare il cibo. Cibo, cibo. Perché? Non ci sono, tipo, miliardi di maiali, di mucche. Non fanno camminare sempre tanto. Per non trovare nulla. Vediamo a casa quanto sta. 133. Cosa deve essere successo? Stava passato uno di quei cosi scavatori. I bruchi. Maiali, porci, porcelloni, porcellini, porchi. Sì. Ne ho trovati tantissimi. Finora. Cosa deve essere di qua? No, cancel. Un mega vulcano? Beh, in effetti... Molto piatto, eh. Tanto, troppo che è piatto. Lagga sempre. Perché questo? Siamo in un canyon. Canyon con la terra del vulcano nera. No, è interessante questo canyon. Farbona, copper, ferro, dinna. Sì, c'è della roba. Beh, intanto noi non abbiamo trovato niente di cibo. Disgrazie nostra, però... Soprattutto sempre prendere queste cose. Vediamo se si può mangiare. Sì. Si può mangiare. Fa pare. Però io voglio carne, carne. Io sono un carnibale. Sono un carnibale, un carnivoro. Quando ci faremo l'attrezzo che dico io... Si raccoglieranno proprio... Ne usciranno a migliaia, ne usciranno. Quello là che ha fatto vedere... L'IQ-9316 che si fa con la terra. Dalla terra abbiamo l'alluminio che non so... Come Minecraft ha pensato una cosa del genere. Però... La terra doveva servire pure a qualcosa. Certo, in qualche modo più... Civile. Sì. Liberiamolo. Liberiamolo. Perfetto. Potremmo ucciderlo. Ah, buona lavoro. Cattiva idea, forse. Cattiva idea, forse. Oh, non buona. No, buonissima idea. Abbiamo preso due... Due, come si chiama? Raw Pork Shop. Sembra il nome di un sexy shop, questa carne. Perfetto, 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 perfetto. Oh, una G. Go, 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 go. Che cacchio vuoi? Muori, muori. Ho neanche un po' di esperienzo, un vostro ordi. Vabbè, come vedete, è molto divertente. Molto, veramente, tantissimo, interessante Questa nuova Mod Mod che ne sono state aggiunte parecchie Non è... Non è l'unica Ma è una delle principali Pian piano faremo tutti Tutto Perché comunque Non conoscendo molto Devo seguire Dicco 4316 Spero che vi piacerà anche a voi Questa serie che sto facendo io Per prendere giusto un po' di fame in più Di quella che ho Ma è giusto un po' Vediamo, vediamo Qui, piantiamo Dobbiamo diventare dei farmoni esagerati Oramai No, fanculo Speriamo non ha rotto niente Vai via Vai via Ciao Faffanculo Faffanculo Ok, questa Vediamo Mica ha danneggiato qualcosa, no? Quello è Vola qualcosa Comunque ci ha dato 4 di 16k di ram Sì serviranno Mi ricordo a cosa per bene Ma servono tantissimo Oppure sto dicendo una sciocchezza Questa è la sola da cucinare Questa da posare 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 Posiamo Non ci servono Posiamo Non ci servono Cibo Produciamo Posiamo questo Intatto Anche se si può mangiare Beh, cuciniamo Facciamo un po' la legna Facciamo così Facciamo questa che No Mi ho sbagliato Cuciniamo questa perché Non serve a niente Ah, qui comunque ci serviva Per fare così uno solo Ne possiamo fare Sembra meglio di niente Mandiamoci un bel panino E andiamo a dormire